Antonella Elia si è beccata una ramanzina da Simona Ventura, conduttrice assieme a Paola Perego di citofonare Rai 2. Ancora da capire se la sgridata sia stata studiata a tavolino oppure se sia stata spontanea. Si propende per la prima ipotesi visto che supersimo, nel riprendere l'inviata Elia. In queste ore la torinese si trova a Sanremo per seguire la Kermess in partenza martedì. Ha rievocato una celebre lavato di capo che Mike Bongiorno fece proprio ad Antonella. Ma si procede, come accennato. Antonella Elia è stata chiamata a ricoprire il ruolo di inviata da Sanremo per citofonare Rai 2 e nel corso di un collegamento con la Città dei Fiori in onda domenica 5 febbraio ha fatto dell'ironia su dei dolcetti. Io adesso ho avuto il picco glicemico per la diretta quindi ho fatto quel che dovevo fare me ne vado a mangiarmi i baci di Sanremo. Boni. Ha dichiarato l'ex valletta della ruota della fortuna. L'avventura l'ha richiamata. No senti Antonella. Ti abbiamo pagato profumatamente e tu non puoi sfottere lo sponsor. Per cui adesso stai lì con un sacco di ospiti. Devi fare le interviste. Mi sa che hai una grande esclusiva in mezzo al mare dove tu devi buttarti quindi devi lavorare e guadagnarti la pagna. Parole. Quella della Tigre di Chivasso. Che hanno ricalcato molto fedelmente un noto rimbrotto che Mike Bongiorno fece proprio all'Elia quando questa era sua valletta alla ruota della fortuna. Cosa avvenne? Presto detto. Una concorrente dello show non volle ricevere una pelliccia premio. Poiché il dono entrava in conflitto con i valori in cui credeva. La Elia tenne la parte alla concorrente e dopo che ci fu il rifiuto a ricevere il capo di abbigliamento esultò. Sottolineando di condividere la scelta di non mettersi nell'armadio la pelliccia. Buongiorno non prese affatto bene la gire della valletta e infatti, a telecamere spente, le rifilò una ramanzina assai piccata, ricordandole che era pagata parecchi soldi. E quei soldi provenivano pure dagli sponsor e dunque anche da chi aveva offerto in premio la pelliccia.